Oggi siamo qui con Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia. Buongiorno dottor Nordio. Il settore dell'automotive sta vivendo un momento di profonda trasformazione. Come coglie queste sfide in questo momento di trasformazione? Allora questa per noi è una grande opportunità perché quasi potrei dire coincidono alcuni elementi in parte al di fuori del nostro mercato che investono tutta la società, mi riferisco per esempio alla digitalizzazione, anche con una profonda trasformazione delle tecnologie disponibili e quindi mi riferisco soprattutto alla mobilità elettrica e alla guida autonoma. Mettendo questi ingredienti in un immaginario cocktail alla fine viene fuori quella che secondo me è una grande opportunità di trasformare la nostra offerta da produttori e venditori di veicoli e di mezzi di trasporto a produttori e venditori di servizi di mobilità. E come vede in questo contesto di trasformazione l'utilizzo dei dati? Che ruolo giocano i dati? I dati giocano un ruolo assolutamente di primaria importanza e tutto questo da questo cocktail di cui parlavamo prima viene fuori anche una cosa molto importante, una montagna di dati rispetto al passato di cui noi non disponevamo in passato e che adesso sono lì. L'elemento chiave è saperli utilizzare. Se rimangono lì non ha avuto nessun senso generarli e crearli. Chiaramente averli a disposizione implica tutta una serie di problematiche dal punto di vista della sicurezza e anche della gestione della privacy di questi dati. Però insomma facendo le cose per bene ovviamente questo deve diventare un'opportunità. E qual è la sua visione del futuro del settore dell'automotive? La mia visione è stata, poi non è la mia ma quella della mia azienda, è stata annunciata con molta chiarezza ed è quella di arrivare entro il 2050 ad avere tutto il parco veicoli mondiale del nostro gruppo a mobilità elettrica. Quindi è un programma che è molto importante perché mancano 30 anni al 2050 quindi non è proprio così lontano. E su questo noi stiamo puntando in maniera molto decisa. Alla fine di quest'anno arriverà all'inizio del 2020 diciamo la capostipite di una nuova famiglia di veicoli elettrici completamente nuova che ha la caratteristica di eliminare, annullare e neutralizzare quelli che io chiamo tre freni a mano che hanno rallentato la diffusione dell'auto elettrica in passato. Infatti la nostra ID 3 quindi da parte di Volkswagen quindi avrà il marchio Volkswagen, sarà un'auto sostanzialmente come la Golf che avrà un prezzo analogo a quello di una Golf ma ha un'autonomia non più molto limitata ma vicina a quella di un'auto tra virgolette tradizionale di circa 400 km, oltre 400 km e tempi di ricarica sotto i 30 minuti. Quindi di fatto rendendo la proposta di mobilità elettrica attraverso i nostri veicoli molto vicina, indifferente direi rispetto a quella dei veicoli tradizionali. Ovviamente questo passaggio, questo processo avverrà con gradualità, quindi non sarà un interruttore che dall'oggi al domani prima eravamo non elettrici e ora siamo tutti elettrici. Ci vorrà del tempo però insomma noi ci stiamo preparando anche attraverso una robusta, sicura e rispettosa gestione di questa mole di dati per far sì che questo accada. Molto interessante, poi il 2020 è veramente dietro l'angolo, quindi sono molto interessata tra l'altro. Ecco l'ultima domanda, in una battuta, come la sua azienda dà forma a questa trasformazione? Userei anche qui un motto che è stato cognato dal nostro numero uno mondiale e quindi l'elettrico per tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.